La Chiesa è in prima fila per la tutela del creato, dell'ambiente, come da dettato di un'enciclica molto recente di Papa Francesco. Allora, qual è il contenuto di questa enciclica e qual è il messaggio che diamo a questi ragazzi oggi? Papa Francesco ricolloca al centro dell'attenzione sull'ambiente e sul creato la degnità e il rispetto della persona. Quando al primo posto subentra la finanza, l'interesse, è chiaro che è pericoloso lo sfruttamento incondizionato, l'inquinamento. Papa Francesco riportandoci alla centralità della persona ci richiama anche alla grande responsabilità che abbiamo nei confronti della custodia e del creato. Ecco, molti casi anche nel Vallo di Diano, tra questi si pensi alla situazione di Terna, l'antenna a Montesano, la gente dice no. Quale dovrebbe essere la soluzione in queste situazioni? Dovrebbe essere il rispetto della degnità e della qualità della vita, non l'economia, non la finanza, ma la persona al centro.